Attenzione che nel video successivo c'è un'imprecisione, e cioè questo integrale non va fatto da C a D, ma da D a C. Quindi bisogna invertire le lettere D, C. Questo perché si è scelto di orientare il circuito in senso anti-orario, come è indicato anche in questa figura. Quindi quando si fa la circuitazione del campo elettrico, i vari passettini che si compiono lungo il circuito devono andare in senso anti-orario, e quindi in particolare devono andare da D a C, perché l'asta viene percorsa da D verso C. Tuttavia questa imprecisione non ha comportato degli errori concettuali nel corso della dimostrazione, perché come vedremo nel prossimo video, pur avendo scritto qui C e D, però i passetti sono stati compiuti da D verso C. Dunque, la forma è sbagliata, C e D vanno invertiti, ma la sostanza è giusta, perché i passetti sono stati compiuti da D verso C.